Si dovrebbe dire una new entry, però a parlare di Linda Ferrando insomma viene un pochino anche un po' di Amarcord. 36esima nel ranking mondiale, numero uno in Italia per tanti anni e oggi è arrivata qui a Sassari e ha preso praticamente in mano quello che è il settore giovanile, io continuo a chiamarlo così, il mini tennis per me non esiste perché il talento è talento, lo si vede dalla più tenera età. Benvenuta a Sassari, un progetto interessantissimo che vede questa accademia, l'accademia del tennis di Sassari insieme a te, protagonista. Si guarda, ho tantissimo entusiasmo per questa nuova avventura per quanto mi riguarda, qui il tennis c'era già ma io ho piacere di supportare questa struttura che è veramente un'eccellenza per Sassari secondo me perché quattro campi da tennis nuovi di cui uno coperto, una clubhouse fantastica e una location veramente bella, quindi abbiamo tutti i presupposti per poter fare bene e mi auguro di riuscire insomma. Sono contenta di essere tornata nella città di Sassari dove praticamente ho quasi iniziato a giocare qua, quindi non in questo circolo ma comunque in Sardegna insomma. Un po' di amarcordo l'abbiamo detto e poi soprattutto il discorso che ti lega a questa terra naturalmente. Si parla di gente di Sardegna, si parla di ragazzi seguiti in una certa maniera, aiutati a crescere e possono dare davvero grandi soddisfazioni. In uno sport come quello del tennis dove l'individualità è regina? Si assolutamente, io credo che le isole in generale, vediamo l'isola di Mallorca con Nadal, dia l'opportunità di poter fare molto bene, climaticamente si è sempre abbastanza supportati, anche se negli ultimi anni purtroppo piove e quindi noi col campo coperto riusciamo a sopperire anche a questo, ma è proprio l'ambiente che dobbiamo cercare di mantenerlo e cercare di fare crescere questi ragazzi piccoli e anche quelli un po' meno piccoli. Mi auguro di riuscirci insomma, io ho tutto l'entusiasmo e la mia esperienza, la vorrei appunto dedicare a questa nuova esperienza. Noi ti auguriamo naturalmente i migliori successi soprattutto nella crescita di questi scriccioli che abbiamo visto, insomma qualcuno è già dotato di un certo smash. Oggi mi hanno stupito perché non avevo mai preso una racchetta in mano, insomma abbiamo già paleggiato, quindi è già un ottimo inizio, un auspicio. Bentornata. Grazie mille di questa intervista, grazie.